Premo bene verso l'arco esterno dei piedi, separo le dita dei piedi, mani a sostegno dell'arco lombare, inspiro, schiudo il petto. Se mi sento molto sicuro, molto sostenuto dalla colonna vertebrale, dai muscoli intorno alla colonna vertebrale, libero le mani, altrimenti a sostegno della schiena, inspiro, e spiro Uttanasana, Ardha Uttanasana, inspiro, Uttanasana, passo indietro con la gamba sinistra, Anjana Yasana, di nuovo inspiro, braccia al cielo, espirando rimango. E in queste sessioni la mente si può alleggerire, mentre il corpo fluisce nella sequenza Ardha Uttanasana, distendo la gamba destra, inspiro, piede attivo, espiro, appoggio la pianta del piede, apro a 45 gradi, stiro il braccio destro verso l'alto, inspiro, se voglio di nuovo aggancio il dorso del piede, mano sinistra, coppa, inspiro, espiro, porto entrambe le mani a terra, inspiro, Adho Mukha, espiro.